Grazie Presidente, come tutti sanno il tema dell'acqua pubblica è un tema che ci sta particolarmente a cuore, non a caso infatti è la prima delle nostre 5 stelle e oggi siamo veramente molto orgogliosi di veder riconosciuto lo status dell'acqua nel nostro statuto come bene comune pubblico. Come amministratori di Roma Capitale in questo anno a mezzo di governo ci siamo impegnati molto riguardo la tematica acqua, segnando una forte discontinuità con il passato dalla messa in atto di misure straordinarie per affrontare la crisi idrica che ha colpito il nostro paese nella scorsa estate emanando un'ordinanza che invitava ad evitare la perdita di questa preziosa risorsa e anche sollecitando la società gestore del servizio idrico integrato ad attuare una serie di interventi di manutenzione delle reti idriche che è una cosa che in 15 anni non è mai stata fatta e questo ha portato ad avere il 44% di perdite soltanto nella città di Roma. Abbiamo anche portato in aula una mozione che ha previsto lo stralcio in una delibera del 2014 della vendita del 3,53% delle quote azionarie di Roma Capitale che è la società gestore del servizio idrico integrato di Roma e provincia. Abbiamo anche messo in campo delle procedure volte alla salvaguardia del lago di Bracciano come riserva naturale protetta e rispettando le vigenti normative europee. Abbiamo anche poi recentemente chiesto alla Regione Lazio di attuare l'articolo 5 della legge numero 5 del 2014 che prevede di istituire gli ambiti di bacino idografico che quindi garantirebbero una gestione più equa della risorsa e del servizio idrico integrato. E comunque abbiamo proposto una serie di impegni tutti i volti al raggiungimento di un unico obiettivo che è la gestione oculata dalle risorse acqua e la garanzia della stessa alle generazioni future. Ci tengo anche a ricordare che senza di noi tutto questo non sarebbe mai stato fatto. L'acqua è un bene prezioso che appartiene a tutti e a tutti deve esserne garantito l'accesso perché è un diritto umano indivisibile, inalienabile, universale e da questa dipende la sopravvivenza e il futuro di tutte le specie viventi. Tutti dobbiamo diventare protagonisti della tutela, della difesa e della valorizzazione del bene comune più prezioso che abbiamo che è l'acqua. Grazie.